Questa volpe sarà anche astuta, ma non è per niente puntuale. Mezzanotte è passata da un pezzo. Basta! Smettila di fingere! Pazzi! Lasciatemi in pace! Pagherete per la vostra ostinazione! Vecchia strega! Apri bocca solo per insultare! Se ti arrendi adesso, diciamo che ti sei pentita. Ma se resisti, non ci fermeremo finché non sarai morta! Padre! Lasciami vendicare la mamma! Sguardrenella, tu finirai come tua madre! Vecchia strega! Insulti e minacci anche! Sì! No, 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 no No, 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 no Sai, lui, do poliziotto Attento che paralizzerà Ciao my No Vai, l'ho morti! L'ho morto a strada! Padre, stai bene? Non è niente. Vudan doveva sbarazzarsi di te tanto tempo fa. Sono passati anni, volpe di Giada. Tu non ti ricordi di me, ma dovresti ricordarti del mio grande maestro Grudel Sud. Sei riuscita a introdurti a Vudan mentre ero in meditazione. Hai rubato il nostro manuale segreto e avvelenato il mio maestro, ma oggi io lo vendicherò. Grudel Sud disprezzava noi donne. Voleva l'amore, ma non voleva insegnarci niente. Meritava di morire per mano di una donna! Voleva l'amore, ma non voleva. rubare i segreti dell'arte marziale di Vudan. Non ti è servito a molto. I tuoi movimenti sono disordinati. Io ti mostrerò come una spada di Vudan. Ora, saldare la morte! Brava discepola! Dobbiamo ucciderli tutti! Andiamo! Ha anche degli allievi quella strega! Io devo togliere di mezzo quel maledetto! Chi sei? Perché il destino verde è nelle tue mani? Cosa te ne importa? Mi chiamo Lee Mobile. Quella spada è mia. Volpe di Giada non è il tuo maestro. Dove hai imparato l'arte della spada? Ho imparato per Giada. Squadrinella, muori! Male, si deve eliminare la radice! Resto! 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 Ti voglio! Padre! 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 Padre!